L'agenda del futuro 2024 è un'iniziativa importante, lo è non soltanto per il territorio di Udine, ma lo è per l'intera regione, non a caso l'amministrazione regionale partecipa in prima persona perché è l'idea che sia necessario intanto avere una visione per i prossimi anni della nostra realtà, creare le condizioni di prospettive non soltanto industriali ma anche sociali ed è importante per esempio l'accenno allo studio demografico. Avere poi l'Ocse è un interlocutore di straordinaria importanza perché sarà a questo punto non solo una visione regionale e nazionale ma addirittura internazionale e ci darà la condizione anche di valorizzare quelle che saranno le azioni dell'agenda.